WWF e Lega Ambiente sono sostanzialmente soddisfatte del nuovo piano dei rifiuti varato dalla regione Abruzzo. Valutato positivamente soprattutto il rafforzamento dell'economia circolare, in grado, dicono, di offrire nuove opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita dei cittadini. Quello che viene osservato è il ritardo con cui si sta mettendo mano all'impiantistica, centro del riuso, centri di raccolta e piattaforme ecologiche. Poi c'è l'obiettivo del 70% di differenziata nel 2022, che per WWF e Lega Ambiente può essere conseguito solo attraverso una spinta decisa al porta a porta, soprattutto nei grandi agglomerati urbani. Da questo punto di vista un incentivo importante alla differenziata potrebbe arrivare dall'introduzione della tariffazione puntuale delle utenze domestiche. Sicuramente va fatto un ragionamento di tariffa puntuale, in maniera tale che si paghi effettivamente ciò che io produco di rifiuti, ciò che io mando ad indifferenziato e se non faccio una buona raccolta differenziata. Questo è un sistema importantissimo che non solo convince ancora di più il cittadino, tra l'altro è un sistema sperimentato in tantissime realtà, quindi voglio dire non così difficile da implementare. Soprattutto noi chiediamo un'azione maggiore nei confronti di quei comuni che sono superiore ai 20.000 abitanti. Questo perché? Perché è lì che ci sono la maggior quantità di rifiuti e è lì che si deve intervenire fortemente. Lo sparocchio da evitare e respingere resta quello degli inceneritori. La Regione, attraverso il sottosegretario Mazzocca, ha più volte dichiarato che questo piano dei rifiuti punta ad allontanare l'ipotesi di costruzione degli impianti previsti dal Governo nazionale. Affinché così sia, dicono le associazioni ambientaliste, bisogna fare presto e bene. Ovviamente il piano deve essere portato a compimento, è sempre un'azione di contrasto tra quella che è l'azione governativa nazionale e quella che la Regione sta cercando di mettere in campo appunto spuntando su delle politiche di economia circolare. Il problema vero è capire come usciamo fuori da questa fase di transizione e quindi è un'attività che va attenzionata, supportata affinché vinca il discorso dell'economia circolare che è anche un discorso a nostro avviso molto simile al tema della petrolizzazione e della cementificazione ovvero un nuovo modello di gestione non solo ambientale, economica ma anche sociale. Intanto la Regione ha inviato al Ministero dell'Ambiente una relazione contenente le previsioni di fabbisogno di incenerimento stimate in 57.000 tonnellate annue oltre il 50% in meno rispetto alle stime governative. Tali quantitativi, secondo la Regione Abruzzo, non giustificano la costruzione di un impianto di incenerimento.